Sto registrando a 120 fps, l'ultima volta che ho provato a registrare un video di 10 minuti è finito che pesava 120 giga. Cranker vuoi registrare? Si, ma stavo registrando una cosa a caso. Infatti stavo facendo un esempio. Perché vuoi registrare su Cranker? Non lo so perché ti viene easy clappare la gente, nel senso che tipo con il cecchino puoi shottare facilmente la gente. Ma perché tu vuoi fare i montaggi, vero? Vabbè. Oh? Che cavolo di una... che cos'è? Oh no. Ma facciamo una partita LOL, genio. No LOL. Non vuoi giocare LOL? Mmm. Che problemi hai? Questo ragazzo è un po' magico, bro. Chiamo a Overwatch. Guarda che imposto schifo! Dov'è? 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 Io ho fatto un 360. Impossibile. Quindi in realtà non ha linebot per te. Vuoi? Vuoi schifo. E tu sei un pippo. Ma mettiti a piangere bambino. Oh cosa spammi? Cicciono. Dov'è? 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 Eh. Io giocherei a Oberwood. E va. Ma mi hai detto che non posso giocare. Sei giocato. Sei zitto. Non è vero. Sei un ostro. Scusa. Qua... Che schifo, che schifo. Molto mi metterà tutti i miei... ...tele per... 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 ...tele per...